Dopo lo 0-0 di mercoledì il Perugia è tornato subito in campo per preparare la complicata trasferta di Bolzano. Contro il Suttirol dell'ex Pierpaolo Bisoli torneranno Casasole e Quan dopo la squalifica. Saranno invece ancora fermi ai box Angella e De Cong e ovviamente mancheranno anche lo squalificato pass ed è l'Orco la cui stagione si è conclusa in anticipo. Nessun problema infine per Santoro dopo la contusione rimediata mercoledì sera contro il Como. Il centrocampista del Grifo in continua crescita è stato inserito nella top 11 della Lega di Serie B relativa alla ventisettesima giornata di campionato. Per Santoro si tratta della seconda presenza stagionale, la prima era arrivata dopo il derby di ritorno nella formazione tipo che la Lega pubblica dopo ogni turno nei propri canali social. Intanto quella di mercoledì è stata una serata che Alessandro Seghetti non scorderà mai. Il 1 marzo 2023 rimarrà una data indelebile per il classe 2004 che allo Stadio Curi contro il Como ha coronato il sogno di esordire con la prima squadra del Perugia. Il 19enne, originario di Pollenza, uno comune di 6400 anime nella provincia di Macerata, è stato mandato in campo da Castore al minuto 82 al posto di Olivieri. Seghetti, maia 78, è entrato nel vivo dell'azione in un paio di circostanze e ha giocato bene i palloni che gli sono arrivati tra i piedi. Seghetti si allena già da qualche tempo con la prima squadra, ma gioca in pianta stabile con la Primavera Biancorossa. Con i pari età ha collezionato bene 13 gol in 16 presenze in campionato e 3 gol in una sola partita in Coppa Primavera. Nato nel comune marchigiano, ha giocato inizialmente nelle PSG Robur Macerata e poi nel Tolentino. A soli 15 anni è arrivata la chiamata del Perugia e il trasferimento in Umbria. Ci auguriamo che sia l'inizio di una bella storia, ha detto la famiglia, che lo ha seguito con emozione dagli spatti del Curi.